Minosse fu il più celebre re di Creta. Tra i suoi numerosi figli, Arianna è famosa per aver aiutato l'eroe Teseo a uscire dal labirinto con lo stratagemma del filo, dopo che aveva ucciso il mostruoso Minotauro. Secondo la mitologia Minosse costruì un altare in onore di Poseidone in riva al mare per dimostrare il suo diritto al trono, Minosse pregò il dio di inviargli un toro da immolare ma, pur venendo esaudito, alla fine non sacrificò l'animale poiché era dotato di una bellezza straordinaria, Poseidone, adirato, fece allora innamorare del toro Pasife, la moglie di Minosse, e da questa unione nacque il mostruoso Minotauro, mezzo uomo e mezzo toro. Minosse incaricò dunque Dedalo di costruire un labirinto in cui nascondere alla vista l'abominevole creatura. Di Minosse fu caratterizzato da scontri con i popoli vicini, che egli riuscì ad assoggettare, combatté anche contro Niso, re di Megara, che aveva un capello d'oro a cui era legata la sorte della sua vita e della sua potenza. La figlia di Niso, Scilla, si innamorò al primo istante di Minosse e non esitò ad introdursi di notte nella camera del padre per tagliargli il capello d'oro, si recò da Minosse offrendogli le chiavi di Megara e chiedendogli di sposarla. Minosse possedette Megara, ma rifiutò di portarla con sé a Creta, la ragazza traditrice che, presa dalla disperazione si gettò in mare e annegò. Minosse attaccò anche Atene, in seguito all'assassinio del figlio Androgeo ad opera del re Egeo, sconfitti gli Ateniesi, Minosse impose un tributo di sangue. La consegna, ogni anno, di sette fanciulli e sette fanciulle da dare in pasto al Minotauro. Tale sacrificio cessò solo grazie all'intervento di Teseo, figlio di Egeo, che con l'aiuto di Arianna riuscì ad uccidere la sanguinaria creatura. Secondo il mito, Minosse fu ucciso in una vasca da bagno in Sicilia mentre era ospite nella rocca del ressicano Cocalo.